Pronto? Fai Paolo, fagli uscire che hanno già fatto. Pronti? Partenza? Via! Bravo! Brava Deborah, un applauso, accorgiamo insieme con un applauso, signori. Adesso vediamo il tunnel. Bravo! Forza, un saltino. No, no, ha girato l'ostacolo, non vale. Devi fare l'ostacolo. Prendi l'imbraccio. Prendi l'imbraccio. Ah, brava! Ed ecco Deborah Correggio in arrivo. Brava! Ancora 48 secondi. Brava! Bravo! Quando hai finito questa mash peserà due chili in più. vedo che tutto il mattino che gli dai da mangiare l'ora adesso è la volta di Luna abbiamo il suo padrone che sta usando una stratagemma che speriamo è efficace vediamo un po' qual è, scopriamolo pronti, partenza, via! bravissimo bravissimo adesso l'ho presa col tunnel vediamo un po' il biscottino vediamo un po' eccola qua brava Luna bravissima guarda guarda brava 5 il numero 5 5, bene 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5, 6 6 8 8 8 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 17 18 19 19 19 19 20 20 21 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 22 pensavo volete farne correre due lavori uno per uno poi iniziamo con questo stupendo posto Artù Artù pronto? attenzio via bravissimo un bel salto anche molto elegante bravo adesso il tunnel bravo 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 un bel salto bravissimo bravo Franco vai là bravissimo 32 secondi bravo e adesso è la volta di Leonardo dai a me Artù lui è bravo Leonardo sei pronto? partenza via dai a me Artù ecco Leonardo velocissimo bravissimo bravissimo vediamo le funne eh bello bravo bravo posso riprenderlo posso riprenderlo? posso riprenderlo da lui? ciao e tu non ce l'hai il cane? ciao che amore che amore va bene anche di lì dai anche di lì dai Grazie a tutti. Brava, 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 questo è il passaggio più difficile, il tunnel è sempre il momento, forza dai, dai Luna, devo passare sotto, no così non è valido, non è valido, se no lo fa il cane passa il padrone. Passate Siemen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se il cane non fa il tunnel, tu lo fai, però slega il cane e non tirarlo dentro così. Allora adesso la volta del numero 9, Alessandro Contobia, pronto per la partenza, pronti, via! Ti chiamo tra i due minuti? Sì, perché stiamo facendo il cane. Ti chiamo io. Non capisco niente perché urlano, ti chiamo io appena finito questo qua. Prosegui, la giusto io. Adesso è la volta del cane più magretto di tutti, è un cane un po' passito e minuscolo. se si chiama Atena, Atena, fatti onore! Atena, pronta dall'alto, girati di là, gira, 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 Atena, pronti, partenza, via! Brava! 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 Dai, dai! Dai, Roberta! Dai, che ci sei! Brava, Roberta! Grazie! Sì, adesso arrivo.